Momenti di felicità a San Candido! Grazie alle esclusive possibilità di shopping e al veregato patrimonio storico, da 1250 anni questa località unisce l'atmosfera urbana a una natura incontaminata e a incomparabili pista da sci. Tutto è facilmente raggiungibile a piedi, con lo ski train o con le moderne navette. Lasciati ispirare su www.trecime.com Trasformeremo il tuo inverno in un bianco incantesimo.